13.600 imprese impegnate nel settore con 34.600 addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi di euro. Sono importanti i numeri della filiera legno-energia in Italia. Al centro di Progetto Fuoco, la fiera è in corso a Verona sugli impianti di riscaldamento per produrre energia dalla combustione di legna. I numeri interessano le imprese ma anche i privati se si pensa che in Italia 5 milioni di famiglie per riscaldare la casa consumano legna, cippato o pellet. Quest'ultimo è importato dall'estero per l'80%. C'è un'attenzione alle fonti rinnovabili e ai combustibili a filiera corta e la volontà da parte degli utenti di avere un combustibile che sostanzialmente li renda indipendenti dalle manovre internazionali e globali di policy sui costi dei combustibili fossili e quindi indirizza l'utente verso le fonti rinnovabili. La seconda è che se andiamo a misurare il costo per kilowattora dell'energia proveniente da legna ma anche da pellet, se confrontata con i combustibili fossili, GPL, gasolio, metano anche, ci sono dei vantaggi che possono anche ridurre della metà la bolletta energetica. Sono 25 milioni le tonnellate di CO2 risparmiate rispetto ai combustibili fossili che si sarebbero dovuti utilizzare ma anche con legno e pellet serve attenzione alle certificazioni e al possibile impatto ambientale dei materiali usati. Ma il legno quando brucia inquina o non inquina? Beh più che parlare di inquinamento direi che emette delle sostanze, emette PM10, emette ossidi di azoto, emette diossina perché fa parte dei risultati di una trasformazione termochimica che è la combustione. Però questo fatto deve essere preso in maniera seria. Perché? Perché noi possiamo controllare la quantità di emissioni operando delle stufe, delle macchine termiche moderne e attrezzate con tutti i dispositivi per procedere a una combustione regolare e quindi con una quantità poi di emissioni sostanzialmente molto bassa. Qual è il fronte che si apre proprio sulle tecnologie? Riduzione delle emissioni, quindi un grande investimento in innovazione tecnologica e sforzo per aumentare i rendimenti. Quindi proprio è un lavoro di progressivo innalzamento della qualità degli apparecchi. Grazie. 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 Grazie.